Hello, benvenuti. Ciao a tutti, ciao, bentornati a Zitto e Guarda. Un podcast dove io e Jacopo ci costringiamo a vedere film. Esatto, ultima puntata di questa stagione in teoria. Ultima puntata in teoria, ma poi vedremo. Però oggi tocca a te subire il mio film. Sono molto emozionato in realtà, perché avevo in mente un film, poi settimana scorsa mi hai fatto vedere Vita della Strega, Bewitched, settimana scorsa, no, settimana scorsa per voi che ascoltate, per noi è tutto, vabbè. Io non mi ricordo quando è che abbiamo registrato Vita della Strega. Potrebbe essere la settimana scorsa, come ieri, come 15 anni fa. Non abbiamo il senso del tempo. Non ci ho dato sapere. Però ecco, io avevo in mente un altro film. Poi mi hai fatto vedere Bewitched e mi hai detto cosa questo film era per te, il fatto che ti ha come acceso una piccola scintilla, qualcosa del genere. Allora ho dovuto cambiare la mia scelta, perché ho detto, vabbè, se siamo in questo mood, allora ti do la mia risposta di quello che ha fatto scattare me. Perché, vedrai. Oddio, adoro. Sono due film molto simili, in realtà, però completamente opposti. Cioè, He Was Punk, She Did Ballet, è una roba del genere. Ah, ok, la canzone di Avril Lavigne. Esatto, quello è il mood. He Was Punk, She Did Ballet. Sono due film gemelli, ma completamente separati. Perché? Vedrai che in questo film, come te lo spiego? No, anzi, partiamo dal principio. Questo film, io purtroppo non l'ho visto al cinema quando uscì, è un film del 2008. E già qua, Jacopo, mi stai scegliendo un film del 2008. Sì, lo sappiamo. L'annata migliore. Anno zero del cinema, per Giulia. Anno zero del cinema in generale, 2008. Un anno magico. Ricordiamo perché, perché, dillo tu io. Vabbè, anno di uscita di Twilight, ragazzi. Quindi questo. Esatto, è importante. Quindi, vabbè, c'è pure questo. Non ci avevo pensato, però, ovviamente, il 2008 è non importante per questi film. Lo è. E non l'ho visto al cinema, appunto, perché non sono riuscito. Però volevo, perché dentro c'è un attore che in quegli anni è riesploso. Avevo avuto un momento così e poi è tornato, ma anche questo lo vedrai. Ti dico solo che è un film diretto da Ben Stiller, con Ben Stiller. Oddio, forse ho capito. Forse l'hai già visto anche, perché io penso che tu l'abbia visto, però secondo me non te lo ricordi bene, perché... No, ma sicuramente. Jacopo, io non mi ricordo mai niente. Figurasi, mi ricordo bene un film che ho visto anche solo due anni fa, cioè... Però provo a darti qualche indizio su questo film. Fottuti attori. Ok, già qua, adoro. Apocalypse Now. Oh, ok, ho capito. Hai capito? Certo che ho capito. Quindi? Allora, non mi ricordo il titolo, quindi è già qua. Però mi ricordo la scena di Robert Downey Jr., questo. Brava! Quindi stiamo parlando di Tropic Thunder. Tropic Thunder! Esatto. No, ti prego! Eh, sì. Allora, penso di averlo visto una sola volta, ovviamente secoli e secoli fa, su Sky, su Sky Cinema. Tipo, cioè, veramente ti parlo di dieci anni fa, se non di più. Però sì, ci stava, cioè immaginavo l'avessi visto perché appunto era uno dei grandi ritorni di Robert Downey Jr., stesso anno di Iron Man per lui, tra l'altro. Non ti dico dopo una cosa che forse non ti ricordi, ma va bene. Quando ho visto questo film mi è tipo cambiata la chimica del cervello, ma non solo a me, perché l'ho visto poi con degli amici. E noi ad oggi citiamo questo film, cioè, verbatim praticamente, ogni volta che ci vediamo fa parte del nostro lingo comune, battute situazioni. Nel film, almeno nel doppiaggio italiano, il personaggio di Robert Downey Jr. dice sempre man, per riferirsi a un amico. Io ho un amico che dice ancora così, ma sempre, cioè, nessun altro lo fa, solo lui, è una cosa che per me... È rimasto segnato. E siccome, vabbè, per fare un piccolo anticipo, è un film che parla di attori che fanno un film, che già automaticamente per gentaglia come noi ha una marcia in più, perché così, io con questo film ho fatto, insieme ai miei amici, quello che poi sarebbe diventato la nostra prima cosa multimediale, dove io ho recitato, tra l'altro, vabbè, recitato, ho partecipato, però non ho fatto niente di tecnico, però... Jacopo, tu sai che devi farmi vedere questa cosa adesso. No, 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 non esiste più. Come non esiste? Adesso la ritroviamo. Vabbè, comunque, mi sono messo i bastoni fra le ruote e la sua... Insomma, questo ha fatto per me quello che penso abbia fatto per te, a livello di... Wow, questo mondo è super interessante, però questo film, appunto, ti diceva, hai poi le opposti perché dipinge un quadro veramente terribile dell'industria cinematografica, però fa ridere, e quindi ci accontenteremo di questo. Vabbè, visto che lo sai già, ti devo solo dire quello che devi trovare. Esatto. Che in realtà sono poche cose, perché faccio fatica a distillare, però forse c'è una cosa che tu non hai visto all'inizio di questo film, perché questa l'ho ritrovata. Questo film, essendo un film che parla di attori, al cinema, prima del film, c'erano i trailer finti con questi attori che fanno cose. Oddio. E io sono riuscito a ritrovarli e te li ho... No, questa cosa non lo possiamo dirla. No, adesso lo dico, però adesso nei siti dove puoi noleggiare questo film hanno messo anche questi trailer, perché prima non c'erano, quindi questa parte è automaticamente nuova e quindi sono contento che tu la veda. Comunque, dovrai trovare Spider-Man. Oddio. Posso dire che in ogni nostro film c'è almeno un supereroe. Sì, sì. Questa cosa è un po' grave, Jacopo. Forse, o forse no. A noi piace. Non lo so. Scientology. Oh, Gesù. Ok, sì, alla fine sono solo queste due cose, perché... Ci sta. Voglio che trovi tu qualcosa da dirmi, perché secondo me ce ne sarà. Oh, Gesù, secondo me sì. E niente, quindi ti tocca vedere Tropic Thunder. Madonna, Jacopo. Che mi fai fare? No, no, ti farà bene, vedrai. Beh, posso dire una chiusura esplosiva. Wow, è proprio... Una chiusura esplosiva questa. Anche poetessa. Dai, allora ti aspetto al varco. Va bene, vado. Sono troppo felice. A dopo. Ciao, ciao, a dopo. Vezzo iniziato, non pensavo che i trader ci fossero subito. Sono rimasta un attimo scioccata. La mia parte preferita, Tobey Maguire, che fa il prete innamorato di Robert R. Junior. What the fuck? Allora, ormai è assodato che tutti i film che mi fai vedere iniziano con della gente che viene ammazzata male. Devo dire, forse questo è il film con più uccisioni brutte. Vabbè, non commento. Cioè, che schifo. No, ma c'è l'attore che faceva Grover in Percy Jackson. Il film. Quello con Logan Lerman. Adoro. No, Tyra Banks con il suo show. Oh mio Dio, è proprio il 2009. Anzi, il 2008. Matthew McConaughey! Oddio. Posso dire, a me manca Matthew che fa queste cose. Cioè, io lo preferivo quando faceva le romcom. Lo so. Parole forti. Ah, e ovviamente c'è Community anche. Perché c'è la tipa... Non mi ricordo, scusa, non mi ricordo il nome che è in Community. Comunque, la tipa Riccia Bassetta. Ma cosa dici? Ma il regista? Cioè, è davvero esploso? What the fuck? Non ho capito! Bentornati! Hello! E bentornata. Sono, sono... Non sto più nella pelle. Posso dire che non sto più nella pelle? Sono... Voglio sapere tutto. Dimmi... Allora... Dimmi la pioggia di follia. Allora, è stato un'esperienza. Non mi ricordavo effettivamente niente del film. Se non, diciamo, il fatto che stavano girando un film. Poi, di tutto quello che succedeva, non mi ricordavo niente. E soprattutto io mi ricordavo solo la famosa scena, quella con Robert Downey Jr. Che parla a Ben Stiller, quella roba lì, no? Cioè, quella un po' iconica, insomma. Esatto. E non so, aspetta, non so da dove iniziare, allora. Eh, devi spiegare un po' la trama, perché è la tua parte preferita. Il che sappiamo che è un problema. Perché? Non c'è io. Ogni volta... A parte che questo film è peggio di Speed, perché... Succedono tutte le cose. È una cosa nella cosa e non sono in grado. Allora, questo film parla di... Cioè, vabbè, io li chiamo con i loro nomi d'attori, perché non mi ricordo ovviamente... Cioè, ho visto il film tre secondi fa, ma ovviamente non mi ricordo i nomi dei personaggi. Non c'è problema. Allora, Ben Stiller è un attore che fa tipo... Boh, è i firmacci un po' maci, un po' trash. E praticamente ha la carriera che un po' sta andando male. E non ho capito questa cosa, se è lui che fa il film, o comunque lo prendono per fare questo film, che sarebbe l'adattamento a un libro che ha scritto sto signore sulla guerra nel Vietnam. Poi si scopre pure che sto signore in realtà non ha fatto niente. Cioè, tipo, ha scritto balle. Un po' mi ha ricordato Gilderoy a Locke, questa cosa. Ok, se vogliamo proprio. E poi cosa succede? Ci sono, appunto, nel cast, oltre a Ben Stiller, altri attori che fanno gli attori, cioè che interpretano degli altri attori. Cioè, Robert Downey Jr., che è il tipico attore tipo super top, che fa tutti quei ruoli particolari. Ha vinto mille Oscar. Esatto, mille Oscar, che ogni volta che deve interpretare un ruolo diverso, lui praticamente si trasforma e diventa il suo personaggio. Un po' il cliché dell'attore di Hollywood da Oscar. Poi c'è Jack Black, che è quello che fa le commedie trash, tutte basate sulle scorreggie. All'Eddie Murphy, no? Quando interpreta lo stesso personaggio, cioè, lui stesso interpreta mille personaggi diversi e lui... Esattamente. Mi ha fatto molto ridere lui. E poi c'è... Oddio. Per me è Grover di Cosa, di Percy Jackson, ma non mi ricordo il nome dell'attore. Oh no, neanch'io lui. Però nel... Questo lo dico io, nel film interpreta un rapper che si chiama Al Pacino, ma non Al Pacino, ma Al Pacino, che a me questa cosa ha sempre fatto ridere che è anche lì, classico persona dello spettacolo o famosa in un altro ambito che viene messa in un film solo per far cassa, cioè l'equivalente di Michael Jordan che faceva Space Jam. Sì, 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 esatto. E infatti ci sono una troupe che contiene tutti gli stereotipi degli attori di Hollywood, attori uomini, tra l'altro, di Hollywood. È vero, sì, è vero. Perché è un film tutto al maschile. Non ci sono donne in questo film. Praticamente no. No, no, senza praticamente, non ci sono donne. È vero, non c'è... C'è Tyra Banks, a un certo punto. Niente, vai pure. Allora, vabbè, parto come al solito con le cose che hai mai dato da trovare. No, 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 che parte finisce la trama, i soli sono degli attori. Ah, hai ragione. E vabbè, che devo dire? Praticamente devono girare, devono girare questo film, che è appunto l'adattamento al libro Bli Bli Blò, è solo che non stanno riuscendo perché ci sono dei problemi, e allora il regista si fa convincere dallo scrittore del libro a portare i suoi attori nella realtà, quindi c'è di buttarli veramente in mezzo alla giungla e riprendere. Il regista esplode, non so come altro dire questa cosa, letteralmente il regista esplode, e quindi loro si trovano effettivamente nella giungla, convinti di star girando il film, ma in realtà stanno veramente vivendo una situazione drammatica, con peraltro dei cattivi che sono questi qua, che tra c'altro c'è un bambino, io mi sono scritta Bimbo Ninja Che Guevara. Brava, la descrizione è perfetta. Non sapevo come scrivere sto bambino. Sì, sono dei trafficanti di droga, e loro pensano che facciano parte del film, e quindi succedono cose, sì, però volevo farti fare questo volo pindarico per spiegare una trama che è talmente stupida che è geniale, o forse è solo stupida. E quindi proprio per il fatto che sono riusciti ad entrare nella realtà, non so come altro dire sta roba, e poi alla fine, grande film, otto Oscar, Ben Stiller, carriera rovinata, alla fine del film, è vero, esatto, come lo spieghi? Alla fine del film si scopre che quello che stiamo vedendo in realtà è l'adattamento dell'adattamento di quello che abbiamo visto, per cui Ben Stiller vince un Oscar. Tra l'altro, seguendo la logica del film, Ben Stiller vince un Oscar come miglior attore in un documentario, ma questa è un'altra chicca, che è... Vabbè. Vabbè, è tutto molto what the fuck. Ok. Poi, allora, quindi adesso posso dire le cose che ho trovato. Puoi dire tutte e due le cose che ti ho detto di trovare. Esatto, le ho trovate subito, perché effettivamente Spider-Man era nei piccoli trailer che mi dicevi, che c'erano all'inizio, in cui... Allora, non so come... Allora, sono dei trailer di film finti. È tipo maccio capatondo, dai, ci siamo capiti. E Tobey Maguire è parte di uno di questi fake trailer e interpreta un frate, come... Sì, un frate. O frate. O frate, che si innamora del personaggio di Robert Downey Jr. Tra l'altro, mi sono segnato una cosa che mi ha fatto veramente troppo ridere, perché il personaggio di Robert Downey Jr., come vi dicevo prima, è sto personaggio che... Sto attore, scusate, che ha vinto un sacco di Oscar, super famoso, eccetera, eccetera. Quindi nel trailer, come succede di solito, viene presentato con... vincitore di cinque premi Oscar... Sì, sì, Leone d'Oro a Venezia. Esatto. E poi presentano Tobey Maguire come MTV Best Kiss. È vero? È effettivamente una cosa che ha vinto. Best Kiss winner. Lo so, però mi ha fatto troppo ridere, sta roba, vabbè. Grande Tobey, ti vogliamo tanto bene. Sì. Poi l'altra cosa era Scientology, e a un certo punto c'è Tom Cruise. Esatto. Che è tipo delle trosterics improbabili. Sì, è truccato molto pesantemente. Infatti speravo non lo riconoscessi a un certo punto, però... Eh, ma sai, è quello sguardo inconfondibile. Da pazzo. Sì, sì, sì. Il suo personaggio mi ha fatto straridere, veramente stradivertente, e anche in questo caso mi sono segnata una cosa. Ho proprio scritto, capisco la sua passione per Floraida. Cioè, lui mette sempre la canzone. Bianca l'ho, 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 l'ho. L'ho, 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 l vedere in realtà, c'è solo alcune non so come spiegare no no allora aspetta riparto dall'inizio allora, questo film mi ha messo in difficoltà è un'ironia che a me non piace questa, cioè la trovo è trash ma non è un trash nelle mie corde probabilmente proprio perché non sono il target di questo film obiettivamente si, si può dire quindi non è colpa del film esatto, esatto, non è colpa del film non era per me però ho apprezzato il voler rappresentare in questo modo metaforico diciamo un mondo che è quello appunto di Hollywood poi il come vabbè, però bello cioè bella l'idea, mi è piaciuto questo ci sta molto figo ci sono effettivamente delle cose che mi hanno fatto ridere però ecco quindi non voglio dire che mi ha fatto schifo non ho riso neanche una volta no? tutte le cose che però mi hanno fatto ridere mi hanno fatto ridere proprio perché sono quei classici stereotipi dell'ambiente, no? esatto tipo, mio personaggio preferito penso sia stato proprio il personaggio di Robert Downey Jr. perché incarna il classico attore che se la mena tantissimo che ti deve spiegare come fare il tuo lavoro che, che... cioè a un certo punto fa un pippone a coso a Ben Stiller Ben Stiller oltre ai suoi film da mega macho aveva fatto anche sto altro film dove interpretava una persona con disabilità mi sembra una roba del genere Simple Jack si chiama Simple Jack che sarebbe un po' una parodia di Forrest Gump e solo che sto film ha flopato è stato brutto eccetera eccetera e quindi c'è c'è lì Robert Downey Jr. che va e dice no ma perché tu vedi capito cioè tu non devi entrare troppo devi stare un po' a metà ma fa tutte le stesse ghe mentali su come cioè come doveva entrare nel personaggio come doveva sentirsi e io vi giuro ero morta Robert Downey Jr. in quella scena fa un discorso però su cosa piace all'Academy sta facendo un discorso riguardo ai tutti quegli attori che hanno interpretato vari personaggi con disabilità e che hanno tutti vinto un Oscar e quindi stava appunto raggruppando le cose che piacciono all'Academy più che piacciono a lui che per lui è la stessa cosa perché esatto come nel film sono tutti attori in realtà super insicuri che devono nascondersi dietro o grandi incassi o tanti premi e così e quindi ecco volevo fartelo vedere appunto per il gioco del doppio che c'è in questo film dove tutto vuol dire due cose poi vuol dire tre cose e sì una cosa che ho notato perché ti dicevo mi è venuto in mente questo film guardando Bewitched è perché mentre guardavo Will Ferrell in quel film ho detto ma io questo personaggio l'ho già visto cioè chi è è perché secondo me almeno poi se ti torna bene se no me lo dirai tutti i personaggi di Tropic Thunder sono una possibile versione di quello che fa Will Ferrell nel nel Bewitched cioè tutti attori completamente pieni di sé distaccati completamente dalla realtà ma che alla fine ci piacciono perché fanno ridere nel film ovviamente no vorrei aggiungere una cosa riguardo a questo argomento proprio perché sempre lui sempre il personaggio di Robert Downey Jr a un certo punto ha detto questa frase che mi ha fatto ribaltare io non leggo lo script è lo script lo script che legge me esatto questa è una di quelle battute che io cito con i miei amici continuamente nel senso ma per tutto cioè io la faccio hai letto la chat io non leggo la chat la chat legge me hai letto l'ultimo numero di Topolino io non leggo sempre cioè proprio fisso e quindi sì volevo provare a condividere quello la mia versione di Bewitched se si può dire così perché sono molto simili questi film in realtà sì sì no allora è come se fossero lo stesso film ma cioè uno è sotto steroidi e l'altro invece è tipo fatto di glitter è perfetto cioè non è solo steroidi è proprio un mix di anfetamine steroidi esatto varie droghe eroina soprattutto come nel film e niente a me questo film piace appunto perché la prima volta che l'ho visto mi ha un po' aperto non aperto gli occhi mi ha fatto rendere conto che io gli occhi li avevo già aperti su questo mondo perché capivo un sacco di cose che i miei amici non capivano non perché erano scemi o perché ero più intelligente io ma semplicemente perché non si interessavano alle dinamiche hollywoodiane gli attori premi Oscar cioè io mi ricordo questa cosa che guardando i trailer finti del film ridevo solo io e poi ho trovato gli amici giusti che ridevano con me ma il fatto è che mi mi ha fatto scattare non tanto la la voglia di fare qualcosa ma la presa di coscienza che era lì che volevo mettere il naso insomma nel mondo dello spettacolo non non per forza starci dentro ma studiarlo io volevo capire ero piccolino era il 2008 avevo 14 14 14 anni poi io vedi questo film soltanto perché nel 2008 per te è uscito Twilight per me è uscito Iron Man che quindi Robert Downey Jr è automaticamente l'attore più bravo del pianeta e dovevo vederlo in tutto e non sono neanche riuscito ad andare al cinema a vederlo questo ma appena uscì a noleggio mi ricordo che ero lì davanti a un blockbuster c'è sempre blockbuster nei nostri video non so perché per te io sai che non ho mai noleggiato una roba da blockbuster se non quando mi sono trasferita a Bologna per l'università e l'ho fatto una volta perché poi ha chiuso chiuso esatto che poi non era un vero blockbuster cioè non era del brand blockbuster ah già eh scusa non sono cresciuto da poco eh no per cui infatti io non ho mai fatto sta cosa cioè spesso gli amici mi dicono eh sì perché io il venerdì con i miei prendevamo la pizza da sporto anche questa cosa incredibile ti portavano la pizza a casa per me era tipo wow la pizza a casa e prendi anche un DVD a noleggio wow come nei film scusa mi sono perso scusa scusa mi è venuta in mente strada e no posso dire una roba che mi ho fatto ridere certo siamo qua posto mi sono segnata due cose che hanno fatto ridere solo me ovviamente perché in questo film vengono citati altri due film che per qualche ragione hanno fatto parte in maniera veramente pesante della mia infanzia vedi che io comunque cioè ce le abbiamo questi vibes noi due esatto siamo tutto collegato funziona tutto funziona perché a un certo punto mi ricordo chi forse l'assistente alla regia dice una roba tipo quasi ha cecato J.B.E. Curtis sul set di Freaky Friday e lo dico what? e ha perso un dito in quel film no ha spasso con Daisy mi fai vedere che lui era no non è l'assistente alla regia l'ha detto agli effetti speciali alle esplosioni hai ragione esatto e parla con il veterano di guerra che non ha più le mani e dice sì sì anch'io ho perso qualcosa durante il servizio ho perso un dito girando a spasso con Daisy che era il mio primo film ora io non ricordo esplosioni in a spasso con Daisy però anche lì mi piega sempre questa cosa e poi si dice che è stato messo nella blacklist perché ha quasi accettato di Emily Curtis esatto in Freaky Friday ovvero quel pazzo venerdì film iconico io veramente l'avrò visto centinaia di volte lo amo Lindsay Lohan ai tempi d'oro fantastico e poi questo devo dire un po' più di nicchia scusate ma per ben due volte a un certo punto Grover di Percy Jackson si riferisce a il personaggio di Robert Downey Jr chiamandolo Kangaroo Jack perché in realtà questo attore è australiano Kangaroo Jack è un film ragazzi che se non avete mai visto io vi invito a non farlo ecco esatto è brutto anch'io l'ho visto Kangaroo Jack tremendo io me lo ricordo perché mio cugino aveva il DVD o la videocassetta non me lo ricordo e non lo so aveva tipo la fissa questo film lo guardava in continuazione e io dovevo subire ok Kangaroo Jack con questi occhialetti una roba aghiacciante che reppava che reppava sì mi ricordo una scena in particolare di questi due che sono nel deserto e hanno una sorta di visione no sì sì c'è il canguro che canta tra l'altro è l'unica scena del film dove il canguro parla il resto è un canguro normale sì quindi ti fregavano perché la misero nei trailer mi ricordo questa cosa è vero però no io quella scena me la ricordo perché loro fanno finta di bere tipo della granita però stanno bevendo delle pietre cioè io davvero vorrei cancellarlo dalla mia memoria invece c'hai la granita di pietre esatto non so perché tremendo oh mio dio e poi in sto film c'è Matthew McConaughey esatto che fa la gente di Ben Stiller fantastico e questo è un Matthew McConaughey prima dell'Oscar prima anzi neanche dell'Oscar prima di passare ai film impegnati esatto a fare il fenomeno che va sempre bene però questo è proprio lo vedi che è un'altra era non so come definirlo e posso dire io io amavo molto Matthew McConaughey in questa sua era ma perché mi faceva tutte le romcom letteralmente tutte le romcom gli vorrò sempre bene a Matthew quello che piace a me di questo film in generale è appunto il fatto che tutto sia doppio triplo ma che cioè lo vedi che questo film loro l'hanno fatto praticamente solo per se stessi perché non andò neanche benissimo questo film all'epoca in Cassi Medi all'epoca c'erano un sacco di film così nel senso di commedia ad alto budget perché questo ha un budget incredibile cioè a livello di effetti speciali siamo al pari con un film di guerra vero anzi col fatto che devono far vedere i set di come vengono fatte le cose nel film se la giocano un sacco si vede solo dalle scene tipo dove ci sono un botto di comparse ma proprio una marea di gente in Vietnam tra l'altro quindi e appunto il film poi inizia come se fosse il film che stanno girando quindi sembra una vera scena di guerra e io la cosa che vorrei è tornare la prima volta che ho visto questo film e accorgermi perché c'è un momento proprio dove un attore scazza una battuta quindi c'è lo stop e tutto quello che hai visto si ferma ma non si ferma nel senso di Fritz Frame ma tipo l'attore che stava cadendo nell'elicottero rimane appeso al filo quello che aveva le budella fuori dalla pancia e dice devo rimetterle dentro cosa tutto bene stiamo girando il caos del set insomma sì quella è una figata oltre a un film che si prende in giro tantissimo anche verso i suoi stessi attori questo è un buon momento per me per parlare dell'elefante nella stanza perché c'è è giusto farlo è giusto farlo questo film a me piace tantissimo però oggettivamente è invecchiato male su tantissimi punti di vista anche a livello di battute grassofobia ce n'è a parecchio non è mai fatto con malizia perché appunto è un'esagerazione di tutto però non si può dire di no il sintomo più eclatante del fatto che questo film sia stato girato veramente in tempi che erano super diversi da quelli di adesso è che per tutto il film Robert Downey Jr. è in blackface perché non lo sapesse la blackface è quando prendono un attore bianco e lo truccano per farlo sembrare afroamericano e questo succede perché non perché vogliono far interpretare un afroamericano ma perché l'attore che lui interpreta nel film è uno di quei talmente estremi che si fa sottoporre a un intervento chirurgico per scurire la pelle ed è una presa in giro a appunto tutte le persone che esagerano per entrare nei propri ruoli anche quando indecoroso non è la parola giusta è offensivo ma semplicemente è offensivo la blackface è offensiva lo è anche in questo film a mio parere non è fatta con malizia però non sta a me dirlo e ci tenevo a precisare questa cosa perché non è che si giustifica tutto una cosa molto interessante che avevo letto tempo fa è che sì lo scherzo funziona nel senso che si capisce benissimo che l'attore lo sta facendo per prendere in giro questa pratica dissero però anche che un critico non mi ricordo chi purtroppo disse che avrebbe funzionato ancora di più se avessero se avessero dato la parte a un attore afroamericano l'avessero truccato in whiteface nelle scene in cui non era nel film e poi il suo aspetto normale quando perché aggiungi un altro livello ulteriore alla battuta e e niente funzionava di più vabbè ci tenevo solo a precisare questo però la commedia purtroppo è una delle cose che invecchia peggio nel cinema ma ci sta a parte questo è un film che io ho molto molto caro per far capire anche quanto fossero diversi tempi Robert Downey Jr. è stato candidato al Golden Globe e all'Oscar per questo film what? te lo giuro Golden Globe e Oscar candidato non ha vinto ma ma sto male non lo sapevo Tom Cruise soltanto al Golden Globe ma Tom Cruise per me era da Oscar in questo film fa spaccare cioè no ma infatti allora a parte sono tutti bravissimi dicevo what perché non perché loro non siano bravi ecco ma perché era in blackface no a parte quello ma perché mi sembra cioè è strano che gli Oscar premino questo tipo di film cioè ne abbiamo parlato finora la gag proprio del filmone drammatico blibli blò quindi wow non lo sapevo incredibile ma invece mi ricordo proprio che io ci tenevo è la prima notte degli Oscar che ho visto quella del 2009 davvero sì perché me la ricordo ancora era condotta da Hugh Jackman che fece un numero spaziale immagino battelo a vedere se ti capita il numero iniziale è proprio tutto cantato da lui ballato io lì mi sono innamorato non hanno mai fatto più una cerimonia così figa come quella volta secondo me e appunto mi ricordo che era la grande rivalsa di Robert Downey Jr che dopo un periodo di carriera un po' così era tornato alla ribalta che storia che cute dai che bello ma poi i livelli di presa in giro di questo film sono talmente alti che faccio una mini premessa questo film fa un sacco di frecciatine ad Apocalypse Now cioè film di guerra per eccellenza tutto molto cupo loro che vanno a salvare una persona isolata che diventa praticamente un santone perché io vi invito a vedere il film comunque perché c'è Ben Stiller che scopre le sue doti di attore di teatro in modo che oddio sì bellissimo ecco questa è un'altra roba che vabbè poi magari ne parliamo dopo questo film è così importante per me che come ti dicevo prima io e i miei amici ho cercato di riprodurlo in parte e infatti parliamone no no non ne parliamo adesso per la prima volta nel nostro podcast fermeremo di nuovo il video ti farò vedere il video nessun altro di voi lo vedrà quindi potete solo credere a Giulie oddio che onore voglio voglio che tu viva questa cosa mi sento male non so se sono pronta sei prontissima sono prontissima sono cinque minuti di puro terrore oh Gesù ok e quindi bentornata di nuovo questo video lo vedrai solo tu e nessun altro nel mondo mai in realtà è online potreste trovarlo però non ce la farete chi può dirlo no no lo sai solo tu dov'è quindi esce fuori ma in realtà non penso di riuscire a ritrovarlo ti ho mandato un link ah hai ragione e vedi che me l'hai ricordato bravo Jacopo bravo io però saprò che sarà colpa tua quindi vorrei solo non descrivere niente scrivi solo il livello di cringe giovanile che c'è in questo film allora è una di quelle cose per cui fa ridere solo a chi l'ha fatto perché conosce la lore esatto quindi c'è tu da esterno vedi sta cosa dici non ho capito però però c'è il testosterone però bello però bello no vabbè amo testosterone no avevate dodici anni eravate tutti così esatto tutti no nel senso che così non mi vedono però cioè intendevo tipo setti minuscoli no no setti minuscoli sì ma il testosterone intendo che dal film avevamo preso quello cioè tutti carichissimi tutti a mille no no non eravamo grossi enormi non eravate fatti di steroidi no purtroppo no o di chetamina no no dicevo cioè che è proprio una di quelle cose che vabbè però volevo farti capire il mio livello di amore cioè no no ma è giustissima questa cosa adoro posso dire adoro cioè io non ho capito il contesto però molto divertente ma la cosa divertente è che a un certo punto mentre guardavo il video l'ho visto in diretta qua con Jacopo che mi sentiva e gli ho proprio detto ma secondo me me l'hai già fatto vedere però non è cioè non ne sono sicura quindi rimarremo con questo dubbio sì io ho già visto questa cosa chissà come avevi già visto Tropic Thunder tanto non te la ricordavi esatto questa è la prova che ci conosciamo da troppi anni forse boh è vero che non sono neanche così tante vabbè comunque vabbè non è vero quasi no non lo so quanti siamo 7 7 7 ah sì può essere da quando ci conosciamo dal 2017 ah dal 2017 ok oddio what che storia che storia niente la mia conclusione finale è che mi rattacco al discorso di prima avevo fatto il discorso che questo film parolizza la qualunque cioè fa giri su se stesso giri su giri e fa un giro ancora in più che io ho imparato solo andando al dumps perché andando al dumps non so se tu l'hai fatto il corso di cinema documentario no quello mi è mancato io quello lo feci e ci fecero vedere un documentario che si chiamava Heart of Darkness che era praticamente il dietro le quinte di Apocalypse Now cioè il fatto che Coppola ha come si è diventato pazzo per riuscire a portare a casa Apocalypse Now se non la sapete è una storia travagliatissima di cose assurde un giorno dovremmo parlarne a caso però vabbè comunque c'è questo documentario che il regista il regista il professore disse secondo me il documentario su Apocalypse Now è meglio di Apocalypse Now e io negli anni sono un po' andato da quella parte perché riguardo più volentieri Cuore di Tenebra di Apocalypse Now ok però il punto è che in quegli anni lì poi a una fiera trovai il DVD di Tropic Thunder lo comprai e nei contenuti speciali c'è questa feature che si chiama Rain of Madness che sarebbe Pioggia di Follia che è un documentario sul making of di Tropic Thunder fatto in stile di Cuore di Tenebra di Apocalypse Now ma non del vero di Tropic Thunder cioè del film che stanno girando in Tropic Thunder quindi è praticamente un secondo film che loro hanno girato tra le righe ma che bordello ma sì ma te l'ho detto che fanno le gire e a me questa cosa cioè se già amavo questo film puoi capire che mi sono ancora di più vorrei sposarlo vorrei fosse legale vorrei fosse legale sposare un film e vorrei sposare questo che bello che cosa carina però beh no perché no non lo so per me è cringe ma non mi interessa no aiuto quindi allora oddio devo mettere questo film su letterbox quindi mi stai dicendo esatto devi dargli un voto adesso tu me lo chiedi sempre adesso lo chiedi più eh infatti ci sto pensando ma secondo me è un tre stelle e mezzo forse quattro no quattro non esageriamo tu sei super generosa con i voti tra l'altro quindi è vero in realtà è sempre un piacere questo film non mi è piaciuto quattro stelle quindi Tropic Thunder tre stelle e mezzo tre stelle e mezzo dai ci sta secondo me a dirla tutta su letterbox il vero sintomo che un film mi è piaciuto è quando metto il cuore perché c'è anche quello è vero magari ho film da due stelle con il cuore perché è vero hai ragione hai ragione infatti anche cioè tipo cinque stelle siccome io ne metto tante hanno più valore se c'è anche il cuoricino ah oia cinque stelle alcuni film ce l'hanno solo il cuore alcuni film ce l'hanno cinque stelle più cuore vabbè la vita seppellitemi col DVD di questo film perché e quindi ti ho fatto vedere il mio la mia versione di Bewitched che non era proprio uguale ma quasi ma si sai come si dice stessa cosa diverso font esatto questo la tua la tua descrizione prima tra glitter e steroidi era perfetta on point veramente sono contento che l'abbia vista invito tutti i nostri amici a vedere questo film se non l'hanno fatto dovevo invitarli anche per gli altri che abbiamo fatto vedere però questo in particolare per me è tipo è il tuo bimbo non è il mio bimbo però è molto indicativo cioè se vuoi capire un po' beh guarda guarda questo film e non capirai un cazzo però vedi la sagoma di quello che una persona è oh alla fine i film sono anche quello cioè io quando ti consiglio un film è perché ti consiglio un pezzetto di una cosa che mi è piaciuta e quindi stiamo diventando poetici ma è perché è l'ultima puntata è l'ultima puntata ci fa questo effetto è davvero l'ultima puntata? tan 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 guarda che seamless questa transizione dobbiamo annunciarlo per niente finta non era preparato assolutamente assolutamente no ma sperando di farvi un piacere dillo tu che è il tuo bimbo questo invece è una tua idea allora io ho un po' pressato per fare uno speciale perché come sapete io amo gli speciali dedicati a cose soprattutto festività è dato che adesso è troppo presto per la mia festività preferita Halloween perché non fare lo speciale di Summerwin yeee yeee per chi non sapesse cos'è Summerwin in questa città amiamo così tanto Halloween che lo festeggiamo due volte l'anno grande città a Gravity Falls sì poi ne parleremo meglio lo spiegheremo meglio anche cos'è Summerwin e tutto quanto però ci sentirete nuovamente in un episodio speciale che sarà molto lungo peraltro perché sarà doppio esatto vedremo il film cioè parleremo di due film contemporaneamente esatto non sappiamo quali dell'altro perché io sono solo il mio sei solo il tuo e sarà molto interessante vedere i punti in comune in realtà perché come sempre però in diretta secondo me funziona ancora meglio e sono sono gasatissima perché come ti dicevo io ti ho dato cioè il mio ultimo film era un grosso spoiler per il film che andavo a farti vedere no io non sono pronto allora il mio non era uno spoiler il mio film di Summerwin sarà poco noto penso ma anche il mio non è troppo conosciuto ottimo sono quasi certa che tu non lo abbia mai visto io sono certo quasi al cento per cento che tu questo non l'abbia mai visto ma perché non conosco nessun altro tranne mio cugino che l'ha visto con me questo film e l'ho scelto perché ma poi ne riparleremo perché Summerwin io questo film lo vedi d'estate ed è di molta paura ero piccolo ma quindi perfetto però insomma sperando di farvi contenti ci sarà questo speciale che uscirà d'estate penso sì in realtà adesso non so perché adesso noi stiamo registrando con veramente sì c'è la neve cioè io non so non so quando poi effettivamente lo sentirete io ho il piumone adesso però Summerwin sì saremmo comunque in estate più o meno in estate e dagli in teoria Summerwin è il 23 di giugno ma non so se lo cioè se faremo proprio ci proveremo chi se ne frega esatto bene quindi ci vediamo all'episodio speciale ci vediamo all'episodio speciale grazie per averci seguito grazie Giulia per aver guardato questo film grazie Jacopo per avermelo consigliato e ciao 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 ciao